Buonasera, buonasera innanzitutto al professor Antonio Gasparro, presidente dell'ASD, ricordiamo Delta Atletica Ebolitana Valle del Sele, il quale ci ha gentilmente ospitato nella sua sede. Partiamo con la prima domanda, parliamo dell'evento che rappresenta poi il motivo principale per cui siamo qui. È un gala di premiazione, so che si articolano in tre giornate che sono il 14, il 15 e il 16, di cui tra l'altro il 16 sarete questa volta ospiti voi al MoMuseum. Ecco, di cosa si tratta, quindi il perché dell'evento e di seguito come sono divise le attività nei tre giorni in cui si svolgerà l'evento? Allora, noi ogni anno alla fine dell'attività facciamo una festa di premiazione con i nostri ragazzi, con i nostri dirigenti, quindi anche quest'anno volevamo fare la stessa cosa. Poiché nel 2013 noi abbiamo avuto i 50 anni di attività sportiva a sud di Salerno, che abbiamo cominciato nel 1963, ebolo in battipaglia, quindi nel 2013 c'erano 50 anni. E siccome all'epoca, noi abbiamo festeggiato all'evento, perché l'abbiamo fatta la nostra festa, però comunque all'epoca non si è proprio interessato. Quest'anno, parlando con il sindaco, abbiamo detto, ma è possibile il comune di Elko che non si interessa di una cosa del genere? E allora ci hanno detto, no, noi faremmo molto piacere, pensi a tutto, all'inizio qualcosa, siamo contenti. Allora abbiamo trasformato questo momento, che deve essere un momento più semplice, più intimo, più familiare, abbiamo trasformato in un passato con tre giorni di attività, come hai detto giustamente. Il lunedì noi faremo una gara, così per noi, per divertirci, il gare c'erano pure io, il gare c'erano i tecnici, tutti qua i ragazzini, amichevoli, faremo una gara di velocità e una gara di salti lungo di lancio del giardotto, a seconda della volontà di Ognuno di noi. Saremo insieme, passeremo un parodone, così insieme al campo sportivo. E questo è il primo giornale. Noi vogliamo farlo costruire, una tra i ragazzi, non è lo sport in sé. Noi vogliamo che siano fatti sociali, stare insieme, costruire amicizie. Il secondo giornale, siccome uno dei bambini che dai 5 ai 9 anni, che fa l'attività di psicomotricità, una cosa molto importante, oggi i bambini non sono le vittime della società, perché in casa non possono fare niente, non possono giocare, devono stare con forza, vicino al computer, vicino alla televisione o videogioco o altre cose. Noi intendiamo i bambini che debbano muoversi, una volta si muoveva, adesso non si muovono più. Noi diamo la possibilità a questi momenti di venire in palestra. Allora, a dicembre ci diamo gli auguri, in che modo? Con la nostra attività. Faremo una festa natalizia, dove i bambini dimostreranno ai nonni, alle nonne, ai genitori, agli zii, ai fratelli, alle sorelle, che vi daranno un po' di gente, quello che non lo sanno fare. Sarà un momento pubblico, diciamo, tra virgolette, con i familiari, perché questi bambini dimostrino quello che saranno fare, 5-6 anni, è una cosa molto impegnativa per noi. Sarà molto bella. Poi, successivamente, il 16, faremo questo momento di invenzione per tutti. Daremo un premio a sorpresa a tutti i nostri cittadini, bambini, piccolissimi, fino ai soci adulti che stanno con noi. Prima cosa. Seconda cosa, diciamo, questa volta avremo noi da un comune un omaggio che il comune vorrà farci. Noi per questo ringraziamo il MOA, perché il MOA ogni volta, anche l'anno scorso, l'abbiamo fatto là. Quindi con loro faremo questo momento. Che cosa faremo? Daremo a tutti quanti i ragazzi, poi daremo dei premi a delle persone che ci sono state vicini, ditte, altre persone non attestate. Però faremo anche una cosa molto, molto bella. Uno, daremo ad alcuni attretti dirigenti delle società sportive che sono state legate con noi in questi anni, che sono appunto la Polizia Sportiva Battipagliese, l'Atletica Erbolitana, l'Atletica Altosele, l'Atletica Aurora e l'Atletica Delta. Quindi con questa associazione che vi faremo daremo una rinnovazione a vecchi attretti degli anni anni 64, 65 e 67, torneranno da noi e passeremo non solo, come fatto di oggi, ma daremo un testimone tra questi degli anni 60, ai bambini oggi che abbiamo nella nostra attività per questi anni del Donila. E quindi sarà un momento molto bello. In più daremo due premi speciali, una ad Antonio Manzo per il suo impegno contro le mafie, perché? Perché noi siamo affiliati anche a Libera e quindi siamo affiliati anche all'associazione sportiva con il Poder Confederato, non è una rinnovazione sportiva. Quindi vogliamo dare il nostro contributo per le attività contro le mafie, anche dando un piccolo nome. Noi partecipiamo all'attività di libera provinciale, regionale e anche a livello nazionale. Quindi vogliamo dare questo attestato. Una cosa che faremo è quella di dare un attestato di merito, diciamo, un nostro ringraziamento, ad una persona che c'è stato sempre molto vicino, il professor Raffaele Ricci, che è stato Presidente del Collegio provinciale di Salerno, fiduciario del Tecnico regionale di Atletica Leggera, adesso non vive più in gammadi, ma era apposta da Bari per incontrare gli amici, vedere tutti quanti noi, anche quelli che abbiamo fatto l'attività negli anni passati. Grazie. 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 Grazie.